Buongiorno, siamo con la dottoressa Stefania Vallone di Walsh on Luce, Women Against Lung Cancer in Europe, per parlare di microcitoma e in particolare di implicazioni per pazienti e caregiver e aree di ottimizzazione dell'attuale presa in carico. Buongiorno dottoressa Vallone. Buongiorno. Ecco, per cominciare le chiederei quali sono, dal suo punto di vista, gli aspetti più importanti da attenzionare nell'attuale Passion Journey del microcitoma? Beh, c'è da dire che purtroppo ad oggi il microcitoma rappresenta ancora una sfida importante perché comunque parliamo di un tumore aggressivo che ha una rapida evoluzione e parliamo di pazienti che comunque sono altamente critici. Quindi sicuramente è importante non perdere tempo e quindi è fondamentale, diciamo, che gli aspetti più importanti da attenzionare siano la tempestività della diagnosi, ma soprattutto della presa in carico e poi dell'inizio dei trattamenti. Inoltre c'è da dire che il paziente con microcitoma proprio per la tipologia di malattia che ha, ha un bisogno importantissimo di supporto psicologico precoce, proprio perché deve essere supportato e aiutato nel processo di comprensione della malattia e soprattutto ha bisogno anche di essere rassicurato non solo dall'oncologo ma anche da tutti gli specialisti che si occupano poi della gestione della sua malattia. Per terminare forse direi che un altro aspetto importante da considerare è la tipologia di questi pazienti. Spesso si tratta comunque di persone in età avanzata che presentano altre patologie e che quindi già in fase iniziale, quindi già alla diagnosi, hanno dei sintomi che sono fortemente invalidanti, per i quali comunque vengono richiesti infatti di poter avere dei miglioramenti. Allora in questo caso sicuramente una grandissima opportunità per questo tipo di persone potrebbe essere l'implementazione di cure simultanee, cioè la possibilità comunque di integrare cure palliative in fase iniziale all'interno appunto di cure antitimorali, proprio con l'obiettivo fondamentale di poter offrire a questi pazienti una qualità di vita migliore. Ecco parliamo anche di associazioni pazienti. Qual è il ruolo delle associazioni nell'intero percorso diagnostico terapeutico? Beh l'associazione di pazienti sicuramente ha un ruolo molto importante che è quello di cercare di essere un po' il punto di riferimento non solo per il paziente ma anche per la famiglia, proprio perché comunque diciamo che nel momento della diagnosi il paziente sprofonda un po' in quel momento di ignoto nel quale va alla ricerca di informazioni che lo possano aiutare a comprendere meglio la situazione appunto nella quale sta vivendo. Quindi sicuramente l'associazione in questo può essere di grandissimo supporto ma è anche di grandissimo supporto nel cercare di essere un po' il collettore dei bisogni non solo del paziente ma dell'intera famiglia. Bisogni che tra l'altro sono sicuramente diversi a seconda delle varie fasi di malattia che il nostro paziente sta vivendo. Quindi quello che fa l'associazione è cercare di intercettare i bisogni che non sono solo di tipo clinico ma sono anche bisogni di tipo psicosociale e per questo cercare poi di disegnare, sviluppare e realizzare tutta quella serie di programmi, iniziative e servizi che vanno a rispondere poi in maniera molto puntuale a esigenze specifiche poi che sono determinate un po' dalla condizione di malattia e anche dalla tipologia di malattia che abbiamo detto essere piuttosto invalidante. Perfetto, grazie mille. Va bene, grazie a voi, buona giornata.